Questa esperienza è andata benissimo, è stato molto interessante. Mi porto nel cuore il vivere la meraviglia del qui ed ora. Consigliare questa esperienza per togliere pesi e zavorre dallo zaino che ci portiamo dietro tutti i giorni e per vivere da dopo l'esperienza con leggerezza e meraviglia. Prima del ritiro mi sentivo un po' spenta e a volte un po' frustrata, mentre adesso mi sento con il cuore leggero e gioioso. Quello che mi sembra possibile adesso è di vivere tutti i giorni con la voglia di essere viva, mentre prima era un po' più complesso, mentre da adesso in poi lo vedrò assolutamente possibile ogni giorno. Mi riprometto di ricordarmi tutti i giorni che ho trascorso qui per riportarli nelle cose quotidiane della vita. È meraviglioso. Mi porto a casa la semplicità e la facilità di vivere tutte le esperienze belle, brutte, più faticose, meno faticose, con semplicità e leggerezza e divertimento soprattutto. Come ho riso in questi giorni non ho riso a cuore leggero veramente da tanto tempo. e questo è grazie a lei e grazie al gruppo e grazie a ciò che mi sono permessa di dare a questo evento. La ringrazio col cuore, ti voglio tantissimo bene e voglio dimostrartelo sempre di più impegnandomi nel percorso.